RWE Live for you Ricorda quei messaggi negativi Invece Victoria rappresenta un po' la filosofia dell'azienda Cioè quello che attraverso la formazione linguistica Si può aiutare il successo della persona E quindi Victoria Company invece di una normale scuola d'inglese Riusciremo mai a parlare l'inglese finalmente? Tutto sta nella volontà Nel senso che in realtà le limitazioni sono quelle che ci poniamo noi Noi abbiamo persone e storie incredibili a raccontare Da ad esempio una signora che ha iniziato a studiare l'inglese a 72 anni Quindi ho ancora delle opportunità A 72 anni ha iniziato a studiare l'inglese perché il figlio Che per motivi di lavoro è andato a vivere in Australia Aveva l'esigenza di vivere in Australia E la madre era disperata perché gli sarebbe nato un nipotino E non ci avrebbe potuto comunicare Da lì si è messa a studiare l'inglese Ha superato i dodicenni, i tredicenni nell'apprendimento E è arrivata a un livello tale che poi ha utilizzato il suo appartamento Per abire un bread and breakfast E a 75 anni ha iniziato una nuova attività commerciale Questo è un po' un esempio di quanto la volontà vada sopra Ai preconcetti che in realtà ci poniamo soltanto noi come limiti È difficile venire a fare il corso e la scuola da Vittoria Company? È difficilissimo? Assolutamente no, se hai un navigatore Se no ti do le indicazioni su dove sta la scuola Raggiungere la scuola è estremamente facile Partecipare a detta di molti dei nostri clienti è stimolante E bisogna metterci anche all'impegno Ecco, quindi voi formate anche le persone all'interno delle aziende Sì, noi facciamo, lavoriamo con l'azienda Non è un inglese un po' più tecnico quello che insegnate voi? Cioè fammi capire No, noi insegniamo quello che è realmente la lingua Non è un qualcosa come la grammatica, la lettura Perché può spaventare, no? In effetti Noi abbiamo un salottino nel quale ci si mette seduti e si chiacchiera Non è lezione È un servizio aggiuntivo che noi offriamo Semplicemente perché le persone si devono sentire a proprio agio con la lingua Non è soltanto la parte di aula che fa la formazione Ma è l'esperienza L'esperienza culturale che riesce a dare il valore aggiunto Tu parli l'inglese perfettamente, immagino Io parlo l'inglese a livello sul framework europeo C1 Che è subito sotto il madrelingua Diciamo che dovrei migliorare sotto alcuni aspetti Però anche un'esperienza di lavoro in America Mi ha consentito di sviluppare Sei stato a lavorare in America? Sì, a Boston Quanto tempo? Ma l'esperienza ha durato un anno e mezzo Io ho vissuto proprio a Boston per sei mesi Era un progetto post-universitario con un dottorato di ricerca con l'MT Ma poi sono tornato perché si viveva molto meglio qua a Iesi Che in America come stile di vita Poi capisco chi per scelta personale sta fuori Ma io non è che mi mancava a casa Ma mi mancava lo stile di vita Che il vivere qua nelle margine Siamo troppo italiani Stiamo bene Stiamo bene Allora, questa sera praticamente Qual è stato, insomma Che cosa pensi di questo incontro? Che cosa può scaturire un incontro del genere? Ci sarà veramente un avvicinamento tra le aziende, le imprese E la politica locale? Assolutamente sì Io credo che quello di oggi è stato importantissimo Perché è un primo passo in una direzione nella quale comunque sia Si produce qualcosa Ci saranno sicuramente delle conseguenze a questo Secondo me l'avvicinarsi delle aziende, delle realtà locali Alle istituzioni non più come confronto e dibattito Come se si stesse in due parti ben distinte Esatto Dello confronto Qua c'è un'altra filosofia Siamo entrambi Iesini Siamo entrambi marchigiani Come strutture Dobbiamo collaborare per il bene comune Quando l'istituzione incontra l'azienda L'azienda non cerca di chiedere qualcosa È disposta anche a dare L'importante è che si entra in sinergia per avere un futuro sicuramente migliore Quando si collabora Quando si collabora Parlando inglese Parlando inglese, italiano, ma anche Iesino Beh, guarda, le imprese hanno bisogno di In effetti, adesso parliamo insomma Ormai la lingua inglese anche accende un computer È importante quantomeno saper parlare inglese Adesso non ai livelli di Cristiano Carriero Che però si è roggenito perché non mi sono più esercitato Infatti tornerò presto alla Victoria Compton Lo giuro Allora verrò con lui, va bene? Aggiudicato, vi aspettiamo a braccia aperte A posto Con noi si farà cacciara, te lo dico subito Va bene Allora grazie Un programma sull'inglese Bello, esatto Grazie, scusaci, ma noi È sempre un piacere Siamo sempre così E avremo, speriamo, altre occasioni Per poterti avere i nostri microfoni Grazie mille Grazie a voi